Signore e signori siamo qui per presentarvi un prodotto sensazionale per la pulizia del vostro pc. Tutti i file appesi, tutta la mondezza che tenete nel vostro computer verrà miracolosamente eliminato da questo prodotto e noi non ve lo daremo per mille euro, non ve lo daremo per 100 euro e non ve lo daremo per 10 euro, non ve lo daremo e basta, non è nostro, non ve lo daremo, non è nostro. Ebbene sì signori è proprio vero vi andiamo a presentare, mi è rimasto lo strascico della presentazione, che volete fare? Deformazione professionale, ma veniamo alla parte importante di questo veramente ragazzi da paura, questo programma è da paura, ma diamo a Nunzio quel che è di Nunzio, il nostro caro Nunzio D'Abruzzo, lo devo dire, Nunzio D'Abruzzo è lui, perché ripeto se non fosse stato lui questa volta non l'ho riprovato questo programma. Nunzio che è uno dei nostri primissimi iscritti, ormai è di famiglia nel canale, che devo dire anche se guardate se non ricordo male addirittura credo uno dei primissimi commenti se non il primo in assoluto, quindi Nunzio ormai sei nei nostri cuori, ci sei, ci sei e devo dire che è grazie a lui che ci ha fatto conoscere in un commento questo programma che noi sì conoscevamo di nome, ma devo dire sinceramente non l'avevamo mai provato, mi è venuto di andarlo a provare, dico fammi sentire tanto Nunzio dà delle dritte buone, perché poi lui è appassionato di cyber security, quindi so che queste cose gli piacciono, dico se gli piace a lui sicuramente deve essere un bel programmino. Lo sono andato a provare e Nunzio ti devo dire hai perfettamente ragione. Ragazzi questo programma è veramente incredibile, rigorosamente free, sempre libero, quindi lo potete scaricare assolutamente senza problemi, praticamente ha delle piccole, adesso lo andiamo a vedere, delle piccole, chiamiamoli plus, dei piccoli plus, se fate una sorta di donazione, ma vi posso assicurare senza bisogno che andate a cercare il crack, non le voglio sentire queste cose, ma in questo caso specifico vi assicuro che non vi serve, perché le modifiche che fa praticamente la donazione, quindi fa diventare il programma, aggiunge appunto questi plus, chiamiamoli, devo dire, adesso li vediamo su internet, non sono fondamentali, assolutamente, il programma funziona veramente bene così appena lo scaricate. Guardate ragazzi ne abbiamo provati tanti, tanti, che addirittura va a fare delle cose che in altri programmi non vedrete, quindi è anche una sorta di supporto vero e proprio alla vostra privacy, quindi veramente un ottimo programma. Ho detto tutto, la premessa è questa, logicamente Nunzio, adesso credo ti guarderai comunque il video, anche se so che il programma lo conoscerai sicuramente bene, però cerca di guardarlo, perché siccome tu sicuramente lo usi da più tempo, nel caso in cui dovessi trovare qualcosa che non ho detto e reputassi interessante per loro, per tutti gli iscritti e i non iscritti del canale, lo sai tu, lascialo nel commento che io automaticamente lo metto in modo che lo vedano tutti, ok? Quindi passiamo su internet, andiamo a vedere dove si ottiene questo programma e come si utilizza. Passiamo a schermo, eccoci qua. Allora, non dobbiamo fare altro, come al solito, che scrivere Privazer, che è il nome del programma, ci rimanda sul sito loro principale, clicchiamo, entriamo dentro il sito di Privazer, eccolo qua. Allora ragazzi, voglio far vedere subito una cosa, innanzitutto basta cliccare qui sul bottone verde, lo vedete, scaricare, quindi è una cosa talmente semplice, però vi voglio far vedere, a parte andatevi a leggere tutte le particolarità di questo programma, quindi sono veramente, veramente tante. Guardate dove stava, mi pare che qui, in scaricare, eccolo qua, lo vedete, differenza tra le versioni di Privazer, eccolo qua. Se ci clicchiamo, guardate, diceva come il gratuito non ha niente, no? Non dovete vedere questo, ragazzi. Voi vedete, guardate, scaricare, quindi possiamo prendere il gratuito. Andiamo a vedere che cosa ottenete di più nella versione donatori, perché sennò molti di voi subito partono e cominciano a dire, ah, vado a cercare il crack, non le voglio sentire. Allora, vediamo che cosa ottengono la versione donatori. Se fate scaricare, quindi, che poi ragazzi, scusate, diciamocelo tra me e voi stiamo, eh, siamo qua, tra me e te che mi stai guardando. Questi si fanno, non mi fate fare gesti, un mazzo, perché, cioè, voi vi rendete conto che è gratuito? Ma io adesso dico, no? Voi state studiando, state lavorando, ma questi pensate che fanno tutto gratis? Andate, ragazzi, che, a parte le conoscenze, ma il mazzo che si fanno, ecco, mettiamola in senso educato, ma che rende l'idea? E datele sti 5 euro, sti 10 euro, che che, falliti non ci andiamo, è vero che è un momentaccio per tutti, siamo d'accordo, ma 5 euro, ragazzi, se li metteranno pure, andate a vedere che cosa hanno fatto e poi fateci un pensierino. Allora, andiamo a vedere cosa ottiene la versione donatori. Più protezione della tua privacy, è relativo, poi vi faccio vedere. Pulizia automatica delle tue tracce internet, voi lo selezionate manualmente, dovete cliccare, questa è la differenza, non è che non ce l'avete, quindi la pulizia automatica non la fa, ma la dovete fare manualmente, che sarà mai. Poi, download automatico di aggiornamenti vale di un anno, lo fate manualmente, ce l'avete anche voi. Linee di comando, cioè alcuni comandi che vengono fatti con il click possono essere dati in automatico, quindi in pratica programmati scrivendo delle linee di comando. Adesso, state obiettivi, quanti di voi usano le linee di comando? Quanti? Quindi è relativo. Supporto prioritario, vabbè, vorrà dire che dovrete aspettare. Adesso ripeto, questo vi fa capire che poi le differenze non sono sostanziali, quindi a che serve andarsi a ammazzare, anche per loro poverini, a cercare un benedetto crack per la versione donatori? Non mi sembra il caso, ma veramente fate questi 5 euro. Ma a me se non concesso, che non vogliate neppure versare questi 5 euro, considerate che le differenze sono praticamente nulle, quindi lo potete utilizzare tranquillamente nella versione scaricata. Guardate ragazzi, un grosso pausa a questi programmatori, a chi l'ha prodotto, perché veramente sono stati veramente bravi. Adesso andiamo a vedere. Comunque, la cosa è molto semplice, ritorniamo indietro, qui in scaricare non fate altro che cliccare su scaricare e vi appare la consueta qua in fondo a sinistra bandierina dove vi ha detto che il file è stato scaricato. Una volta che qui buttiamo giù, apriamo la nostra cartella e andiamo nel file di download, avrete scaricato Privazer. Io mi sono già creato come solito, come vedete, eccola qua ragazzi, eccola qua. Io mi sono già creato la mia cartella di Privazer, la vedete? Eccola qua. Perfetto. Entriamo dentro Privazer e abbiamo il nostro Privazer.exe. Non dobbiamo fare altro perché vi dico questo. Dice ma come non ci dice come installarlo? No ragazzi, perché il bello di questo programma è che vi permette di scaricare due versioni. La versione autoinstallante che quindi si va a installare sul pc e vedrete che in un caso particolare, adesso ci arriveremo, è meglio installarlo se lo considerate come utilizzo continuo, installatelo, vale la pena, tanto occupa pochissimo, è veramente funzionale quindi vi conviene, ma esiste la versione portable, quindi vuol dire che voi lo mettete dentro una directory, creare come vi ho fatto vedere mille volte un collegamento sul desktop e non lo dovete neppure installare. Che volete di più? Se li meriteranno questi 5-10 euro? E andiamo su, forza. Magari più in là a fare dei programmatori pure voi. Allora, una volta che abbiamo scaricato Privazer.exe, io ho scaricato la portable, così sapete quella che ho messo, ma ripeto, potete scaricare la versione che si installa. Non dobbiamo fare altro che fare, doppio clic per lanciarla. Andiamo a vedere che cosa succede. Sono tornato un attimo a schermo perché stavo guardando, vedete, ci sono tutti gli schizzi, quindi alla fine del video avrò la maglietta bagnata. Oh oh! Chi lo so, le faccio solo io queste cose. Torniamo seri, andiamo a schermo e andiamo a fare il nostro bel doppio clic. Privazer.exe, consueto doppio clic, voi adesso non vedete nulla perché mi è arrivata la classica finestra che mi chiede di farlo partire. Eccola qua. La mettiamo. Chiudiamo la direttore in modo che vedete solo Privazer. Eccolo qua. Ma guardate quant'è carino. Già quando ho visto la finestra veramente carina, fatta bene, semplice, pulita, che cosa dobbiamo andare a fare? Avete visto l'inglese e vi siete preoccupati? Qui c'è scritto English alla faccia della traduzione. Ci sono praticamente tutte in russo, in ciecoslovacco, in, non lo so, qua, cieco, non ciecoslova, cieco ormai, giustamente, ma c'è portoghese e italiano. Io clicco italiano, leviamo lo zoom perché lui mi dirà, guardate, vi apparirà questa finestra. Dice per cambiare il linguaggio dobbiamo riavviare. Facciamo sì ed ecco qua in italiano il nostro bel programma. Quindi non solo è semplice ma in italiano. Perché adesso vi faccio vedere, vi fa delle domande e quindi effettivamente qui averlo in italiano è comodo. Andiamo a vedere. Voi avete due possibilità. personalizza Privazer per le tue esigenze in pochi clic, effettivamente dovete eseguirlo, o vai al menu principale. Ce lo teniamo un attimo per dopo. Seguiamo la procedura quella guidata. Vedete che c'è la versione donatori? Noi non l'abbiamo fatta, ma le differenze ve le ho fatte vedere, quindi diciamo che potete tranquillamente soprassedere, ok? Questa fa tutto, vi va benissimo. Allora, per iniziare, non dobbiamo fare altro che fare avanti. Oh, qui lui mi fa una semplice domanda. Non c'è bisogno di essere un esperto. Puoi tranquillamente procedere come utente base. Vi dico subito che senza paura e senza dimore potete tranquillamente fare questo. Guardate, utente esperto. Dice, ma noi veramente non siamo proprio esperti? Ragazzi, la differenza delle domande che vengono fatte, l'ho fatta per voi questa prova. Tra utente base e utente esperto è una sola. Quindi, invece di 16 domande, non vi preoccupate perché sono semplicissime, adesso ve le faccio vedere, ne avrete 15. Quindi a questo punto tanto vale utente esperto, giusto? Tanto ve la faccio vedere la domanda quella che vi fa. Qui, sempre avanti, appare quest'altra finestra. Pulisci, ti dice, sì, vedete che è selezionato, elimina i collegamenti rapidi non validi, raccomandato, ve lo dice lui stesso. Elimina i collegamenti che puntano ad applicazioni che non esistono più nel menu start, sul desktop, quick launch menu, eccetera. A questo punto, vedete, sì, collegamenti rapidi non validi, più elenco dei più usati. Effettivamente è meglio questa prima opzione perché l'elenco dei più usati potrebbe farvi comodo proprio perché essendo i più usati magari li andate a ricliccare. Quindi qui vi consiglio, come dice lui raccomandato, di lasciare la spunta su sì e fate avanti. Vuota il cestino senza lasciare tracce, senza ombri di dubbio, sì, a meno che non abbiate messo nel cestino qualcosa del quale non siete sicuri. Quindi qui assolutamente sì e facciamo avanti. Qui dovete stare attenti, sono d'accordo con lui quando dice no. Elimina cronologia di office. Allora, se fate sì, pulisce la cronologia dei file usati di recente. I temporanei, secondo lui giustamente inutili, e documenti personali rimarranno intatti. Effettivamente non vi crea un problema. Anzi, ve lo dico adesso, considerate che vi chiede diverse cose e dà moltissime opzioni, poi lo vedrete nel menu proprio generale, che a prima vista può sembrare un qualcosa che lascia un attimo interdetti perché dice mamma mia quante cose va a toccare, ma se poi succede qualche cosa, ragazzi, lo abbiamo testato, credo ve lo confermerà poi anche Nunzio che l'ha testato anche più di noi sicuramente, ma abbiamo provato. Io ho provato sulla macchina virtuale, ho provato sulla mia macchina, lo abbiamo provato al negozio, lo abbiamo messo sui computer dei clienti dopo averglielo appunto detto, guardate ragazzi, li mettiamo, loro eravamo d'accordo, quindi non abbiamo provveduto a installarglielo. Abbiamo fatto tutte le pulizie possibili e immaginabili, abbiamo riaperto programmi, siamo rientrati in diverse situazioni e devo dire che altro non ha fatto che pulire perfettamente i ragazzi, anche il vantaggio è stato della velocità della macchina perché vi assicuro che veramente, poi c'è un punto che ve lo fa capire, che la macchina si è velocizzata e problemi non ci sono assolutamente stati, quindi questo per nostra riprova, credo ve lo confermerà anche Nunzio, quindi in questo caso fatela voi la scelta. Se volete stare tranquilli, lasciate no perché i file di Office magari vi può servire un qualcosa, un file aperto precedentemente, quindi però se vedete, magari lo utilizzate poco Office e sapete che è un qualcosa che utilizzandolo occasionalmente non vi serve, semplicemente fate sì e andate avanti. In questo caso io lascio no e faccio avanti. Qua ti dice, rimuove la cronologia del software di fotoimmagini, è lo stesso principio di quello di Office, se utilizzate spesso i programmi come Photoshop, Coral Draw, CDC e via dicendo, praticamente vi conviene fare no, in modo tale che i file temporanei voi li tenete, magari li andate a riaprire perché volete riaprire esattamente quel file, magari non vi ricordate come si chiama, vi può servire. Nel caso utilizzaste poco questi programmi di grafica o fotoimmagini che siano, semplicemente fate sì, pulite ulteriormente la macchina e andate avanti. Andiamo avanti. Siamo alla domanda 5 di 16, lo vedete? 5 di 16. Windows Explorer cache delle miniature immagini. Qua io direi assolutamente sì. Che cosa fa? La cache delle miniature può contenere anteprime di vecchie foto non più esistenti. Le tue immagini foto personali rimarranno intatte, quindi vi rassicura sul fatto che le vostre immagini assolutamente non verranno toccate. però se, come dice lui, si lavora molto con immagini foto, allora è meglio mettere no perché voi capite bene che avere appunto queste miniature e poterle visualizzare immediatamente e averle sempre sempre disponibili, logicamente fa comodo. Però, discorso precedente, le ho utilizzate occasionalmente, assolutamente fate sì e andate avanti. Andiamo avanti. 6 di 16. Browser Internet. Rimuovere cronologia auto riempimento. Cosa fa? Ve lo dice chiaro. Ci sono due opzioni. Quella consigliata per la privacy, che è sì, e quella raccomandata per la velocità. In che senso? Qua pulisce ciò che hai digitato nel browser Internet. Quindi, voi vedete, quando andate sulla, per esempio, ricerca di Google, se andate a cliccare le prime lettere, vi appaiono le ricerche che avete già effettuato. Quindi, i siti appunto che hai digitato o le informazioni che hai digitato nei moduli nome, indirizzo, eccetera. Se fate no, come dice lui, raccomandato per la velocità, in che senso? Che non è necessario riscrivere tutto. I siti web, il tuo nome e l'indirizzo verranno, come vi ho detto, riproposti nel momento in cui scrivete le prime lettere. Quindi, se il vostro computer è utilizzato, per esempio, da altre persone, assolutamente meglio sì, in modo tale che non sanno, non vedono le ricerche che voi avete fatto, quindi scompaiono logicamente. Ma se il computer è il vostro e lo utilizzate spessissimo, solo voi assolutamente fate no, raccomandato per la velocità, perché vi ripropone appunto le scelte che già avete fatto. Andiamo avanti, andiamo all'opzione 7 di 16. Che cosa va a fare questo? Miniature dei siti web, più o meno il discorso è sempre lo stesso. Sì, per la parola sì, elimina le miniature dei siti web. No, conserva le miniature per un rapido accesso. Semplice come prima, ve l'ho spiegato. Eventualmente lasciamo no, noi vogliamo la velocità e andiamo avanti. 8 di 16. Browser, ultima sessione. Rimozione completa. Sì, consigliato per la privacy. Elimina tutte le pagine aperte dell'ultima sessione e chiude le schede aperte. Attenzione, lui dice sì, consigliato. No, invece, raccomandato per la velocità. Le pagine aperte dell'ultima sessione vengono conservate. Vi faccio un esempio. Io molto spesso apro diverse pagine, poi per qualche motivo mi devo allontanare, ho da fare, vado a mangiare, qualsiasi cosa sia. E magari spengo la macchina. Succede che se voi semplicemente mandate giù il browser, cioè lo mettete ad icona nella barra praticamente, anche quando riandate ad aprire, molto spesso Google per esempio si riapre dandovi le pagine che avete lasciato aperto. Questo perché in questo caso io avrei selezionato. No, perché mi fa comodo che mi riproponano le pagine aperte. Ma se per esempio, stesso discorso, avete la macchina che viene utilizzata da altra gente e non volete che la vostra navigazione venga vista da qualcun altro, semplicemente lasciate il consigliato per la presi e fate sì. E andate avanti. Ragazzi, fino ad adesso è semplicissimo, quindi non c'è niente, poi ve lo spiego veramente di incomprensibile. Facciamo avanti. 9 di 16. Cookie. Qui chi sente cookie subito dice, oh levo tutto, levo tutto. No ragazzi, i cookie in alcuni casi purtroppo per fortuna sono importanti, sono necessari. Qui vi dice, desideri che privacere effetti una selezione intelligente dei cookie? Adesso vediamo perché. Sì, automatico, raccomandato. I cookie utili saranno conservati. Ci pensa direttamente Privazer. Non c'è bisogno di digitare nuovamente le password ad ogni visita. Quindi se voi avete già una password, lui la, tra virgolette, la memorizza e ve la ripropone. No, modalità manuale, raccomandato a utenti esperti. Perché? Che cosa devo fare? Vi permette di selezionare manualmente i cookie da eliminare. Anche se voi farete sì automatico, adesso ve lo faccio vedere, lui comunque vi dirà che ha selezionato alcuni cookie da mantenere e comunque vi fa fare una scelta. No, rimuovere tutti i cookie, a meno che proprio state sicuri, non vi servono a nulla, non avete password, allora eventualmente selezionare no. Ma vi consiglio effettivamente di lasciare sì automatico. Tanto comunque una scelta per vedere se i cookie che lui ha scelto, voi li volete mantenere, ve la dà comunque. Quindi eventualmente li potete eliminare dopo. Ok? Andiamo avanti. 10 di 16. Webcache. Cosa vuol dire? La webcache ve lo spiega proprio. Guardate come è fatto bene. Memorizza la sua attività su internet senza che tu ne sia a conoscenza. È vero. Quindi sì, rimuovi tutto. Consigliato per la paracasi. Vedete che attenzione alla paracasi. Tutti i webcache file vengono eliminati in modo sicuro. La webcache verrà automaticamente ricreata vuota nel sistema. Quindi maggiore privacy ma poi dovrà essere ricreata quindi leggerissimo rallentamento. Ragazzi si parla di microsecondi, cose ridicole. Ma comunque potete selezionare sì, navigazione in internet cache. Alcuni cookie, archiviazione DOOM, document object module, sarebbe a dire se non sbaglio, saranno conservati in Microsoft Edge. È una cosa che in questo caso sarebbe più giusto fare se rimuovi tutto. Tanto considerate che lui comunque salva, come posso dire, una sorta di inizializzazione di quello che utilizzate più spesso come programmi, file che aprite, che però in alcuni casi possono essere cancellati, essere vecchi. E quindi magari la macchina quando vada ad avviarsi, perché questo fa risentire anche sull'avvio della macchina questa opzione, la macchina non trova il file quindi non è un errore, ma comunque la macchina subisce un rallentamento. Per contro logicamente quando andrete ad aprire i file o quando andrete ad aprire Windows, la prima volta, solo la prima volta, la macchina sarà leggermente più lenta. Ragazzi stiamo parlando di cose che dovreste mettervi col cronometro per rendervi conto. Quindi io credo che si rimuovi tutto, effettivamente anche privacy o non privacy in questo caso sia la condizione migliore. Date questa pulita che comunque almeno eliminate tutta la roba vecchia che comunque poi a distanza di un certo tempo è Windows stesso che la va a levare, però comunque è una cosa lunga, a voi non costa nulla, eliminatela subito così quando parte e quando utilizzate saranno sulle file che effettivamente voi utilizzate e sono sulla macchina. Fate la vostra scelta e facciamo avanti. 11 di 16, shell bug. Cosa fa? Lascia il bug, essi memorizzano le date in cui è stata aperta una particolare cartella sul pc senza che tu ne sia a conoscenza. Vedete qua ragazzi, si rimuovi tutto versione donatori. Questa è l'unica, credo, una delle pochissime se non l'unica opzione che è riservata solo ai donatori. Ma non è che non ve la fa fare, tanto è vero che basta scendere e dice sì, rimuove le tracce di directory eliminate. Non è rimuovi tutto? Ragazzi fa una pulizia talmente accurata questo programma che ripeto mi dispiace quasi per i ragazzi che l'hanno fatto perché sono ragazzi persone veramente in gamba, ma effettivamente basta tranquillamente quest'opzione. Quindi eventualmente no, ma fate come al solito la vostra scelta, io direi tranquillamente sì come consigliato e fate avanti. 12 di 16, rimuove cronologia Microsoft Games. Se state a casa io direi di no, se state al lavoro direi di sì. A meno che non sia vostro il lavoro e quindi siate i titolari o responsabili e fate come cavolo vi pare. Quindi fatta la scelta in questo caso intuitiva, fate avanti. 13 di 16, versioni precedenti di Windows. Qua direi assolutamente sì senza ombra di dubbio. Rimuove la precedente installazione di Windows. Ragazzi cosa ci fate con la precedente installazione di Windows? Neppure da considerare il no automaticamente? Certo che sì, consigliato di risparmiare un sacco di spazio praticamente. Rimuove e fa il non necessario il backup dalla precedente versione installata di Windows. E chi se ne frega, scusate il francesismo, ma a questo punto ben venga che ce l'elimina, giusto? Facciamo avanti. Siamo arrivati alla 14 di 16. Pulisci Windows Update. È chiaro che sì? Sì, raccomandato. Elimina. Programmi di installazione e aggiornamenti inutili, inutili le vecchie versioni di aggiornamenti. Anche in questo caso il nonno lo considererei proprio, nel modo più assoluto. Assolutamente sì. Fate comunque la vostra scelta e andiamo avanti. 15 di 16. Allora ragazzi, questa è l'unica opzione che vi appare se scegliete la modalità esperti. Invece avete visto c'era quella base. Che comunque questo, il prefetch, che praticamente che cosa fa? Mi si è linguato anche qui l'ambroglio. Consigliato per la parasi. Rimuovi le voci prefetch non necessarie. Prefetch invalido, prefetch non utilizzato negli ultimi sei mesi. Rimuove la cronologia dell'esecuzione software. Si rimuovi tutto? No. Allora, il prefetch altro non è che la specifica di quello che vi ho spiegato prima. Cioè, se ne risente all'avvio, perché lui va a tener conto del cosa fa la macchina quando si avvia, va a vedere i programmi che avviate più spesso, i file che aprite più spesso, ma normalmente è Windows stessa che si preoccupa poi di eliminarli dopo un certo tempo. Ma in questo caso voi lo fate direttamente. Quindi, consigliato per la parasi, io farei si rimuovi di tutto, assolutamente, perché è più lento all'avvio. Non è vero ragazzi, è più lento all'avvio la prima volta. Però voi avete praticamente veramente pulito tutto. Ed è veramente comodo. Io qua metterei si rimuovi tutto. Io lo farei. Però, per non darvi opzioni sbagliate, che poi magari invece voi vi andate a leggere su internet e verificate quello che vi ho detto e fate una scelta obiettiva. Però io metterei si rimuovi tutto. Ma se volete stare tranquilli, si consigliate per la parasi. Tanto sono opzioni che differiscono veramente di pochissimo. State tranquilli. E danni, fidatevi, non ne fate. È veramente fatto bene, bene, bene. Andiamo avanti. E passiamo finalmente all'ultima opzione, 16 di 16, che riguarda l'ibernazione disabilita, l'ibernazione del pc. Ma sì ragazzi, ma ci siamo capiti, no? Ma l'ibernazione, adesso obiettivamente, ma o lo speciete se è tanto tempo che non dovete utilizzarlo, se non lo utilizzate per parecchio tempo, oppure no, ma chi se ne frega anche qua ragazzi, adesso obiettivamente. Quindi, utilizzo spesso l'ibernazione del pc. Io lo voglio vedere uno che utilizza spesso l'ibernazione del pc. Ragazzi, sono 30 anni che facciamo questo lavoro. Cioè, negli ultimi anni, l'ibernazione ce l'abbiamo sempre qui. Ma ragazzi, io non vedo cliente che la utilizza. Poi magari voi sì e a quel punto non farete altro che mettere no. Assolutamente sì. Consigliato e andiamo avanti. Una volta che abbiamo fatto questo, per favore salva le tue scelte. Ragazzi, per favore. guardate che educazione, ragazzi. Per favore. In un nuovo file, privazzer.ini, se volendo, volete tenervi due file e siete in grado all'avvio di fargli scegliere qual è il file, quindi magari un settaggio con quelle domande diverso, poi ne fate un altro, vi tenete due file. Ma normalmente, lui dice, adesso in questo caso per forza un nuovo file, giustamente è la prima volta che lo facciamo. Le altre volte faremo in un file esistente, cioè quello che abbiamo già creato. Ripeto, a meno che non vogliate, due filini per una vostra sicurezza. Ma, ripeto, va bene il nuovo file in questo caso perché non possiamo comunque fare altrimenti. A questo punto, che cosa dovremmo fare? Semplicemente, ok. Vi appare questa finestrella. Le impostazioni sono state salvate, andiamola a vedere così la leggete bene, in privazzer.ini. Facciamo sempre, ok. Le due scelte sono state salvate, andiamola a vedere bene. Ora è possibile avviare la scansione con privazzer. Pronto per eseguire la prima analisi? Oppure vai al menu principale? Io adesso, l'analisi la facciamo alla fine, tanto è una cosa che poi vedrete tranquillamente perché ormai le opzioni le avete fatte. Una volta, ecco perché vi ho fatto il passaggio con tutte le varie opzioni. Che avete fatto la scelta con le opzioni, direi di andare a vedere velocissimamente il menu principale, perché volendo non fate sempre tutti questi passaggi, ma interagite direttamente col menu principale. Andiamo a vedere che cosa succede. Quindi, concluse le opzioni, ripassiamo qui e passiamo, facendo la selezione sempre su vai al menu principale come dicevamo, passiamo al menu principale, facciamo ok. Guardate che carina questa finestra è proprio bellina. Allora, scansione approfondita in un fare clic su, cioè se clicco qua mi fa una scansione approfondita immediatamente. Pulisci le mie tracce internet con un clic, fate un clic qua, va a pulire semplicemente le tracce internet, quindi le cose più immediate e più veloci che possono fare comodo, persone notatorie l'abbiamo già vista, ecco le opzioni. Scansione qui le vediamo velocemente ragazzi, perché poi alla fine il concetto è sempre lo stesso di quasi tutti i programmi, ma lui le fa meglio. Devo dire, guardate ragazzi, obiettivamente sembra proprio fatto bene. Bene, hai ragione Enunzio, hai ragione Enunzio. Allora, scansione approfondita HDD, SSD, USB. Se ci clicco, quale dispositivo mi chiede? Il computer? Io ho qua dentro per esempio una mia macchina, ho due hard disk. Ho il secondo drive di memorizzazione interna, perché l'ha riconosciuto. Quindi lui automaticamente, senza che io vada a cercare, come altri programmi, devo selezionare, sono sicuro che ho messo quello anche il secondario. Qua mi dice, vuoi il computer o il secondo drive? Prima faccio la scansione del primo drive, in teoria dovrei poterle fare tutte e due, si possono selezionare comunque. Il drive di memorizzazione esterna, la chiavetta USB, l'iPod, il lettore MP3, mi fa tutte le scelte, mi dà tutte le opzioni. Scansione delle tracce specifiche, seconda opzione qua sulla sinistra, lo vedete? Quali tracce? L'attività internet, la traccia risuida di vecchi file, uso del software, cioè il software che puntualmente noi utilizziamo, quindi vuole che vada a scaricare, a levare quelle tracce. Per esempio avete un software, non è solo vostra la macchina, non volete che fate vedere a qualcun altro, non volete far vedere a qualcun altro quello utilizzato, lui vi cancella tutte le tracce dell'utilizzo. Comodo. Nel registro, le tracce del registro, la cronologia dell'USB, cioè quella che avete aperto dalla pennetta, ragazzi sono tutte cose, cose che per la vostra parola si sono comodissime. Cancella senza tracce, a questo punto cosa? I file sensibili? Le cartelle sensibili? Perché vi chiede cancella senza tracce? Perché a quel punto lui va a fare una vera e propria sovrascrittura con dei sistemi, dei metodi già conosciutissimi da chi usa altri programmi di questo tipo, in modo che difficilmente questa cronologia possa essere recuperabile. Quindi per un discorso vero e proprio di privacy sotto tutti i punti di vista. Può essere avviato automaticamente, vedete ragazzi, in questo caso può essere avviato automaticamente. Opzioni e opzioni avanzate, ce le teniamo per dopo. Allora, programmate, devi installare quello che vi dicevo prima, Privazer su questo computer per utilizzare la produzione programmata, cioè per poter utilizzare la versione programmata non potete utilizzare la portable come ho fatto io, ma dovete utilizzare la versione quella che si installa, che era esattamente quello che vi ho detto all'inizio. È un'opzione più dove voi potete programmare certe attività con una certa periodicità e nei momenti che potete decidere. È di un comodo pazzesco ragazzi, come dico sempre giocateci. Poi guardate qui avete anche il supporto di Nunzio che lo conosce credo sicuramente bene, quindi a me o a lui, Nunzio ti becchi questa palla capace che qualche domanda la faranno anche a te, tanto Nunzio è contento preso. Quindi, programmate, pulizie automatiche, che cosa ci va a fare? Una semplice, te lo dice la parola stessa, pulizia automatica dell'attività internet, all'avvio del pc praticamente, quando la macchina si avvia, io posso scegliere fammi una pulizia automatica, oppure fammi una pulizia automatica dell'attività internet, io voglio che ogni volta che mi muovo su internet automaticamente venga comunque fatta una pulizia. Comodissimo anche questo. Poi, ripristi e ripara, questa è è una cosa veramente comoda che difficilmente si trova su altri programmi di questo tipo. Praticamente, vedete, lui va a fare un ripristino del sistema o un ripristino del registro, quindi lui tiene conto delle modifiche che sono state fatte automaticamente da qui, lo fanno anche altri programmi, ma non è così chiaro e così semplice da poter fare, questo ve lo posso assicurare. Oppure, ripara, sistema e archiviazione file. Queste due opzioni, nel caso in cui sia successo qualche problema, voi le potete utilizzare appunto per cercare di ripristinare in una situazione precedente al problema. È una sorta di backup automatico, essendo lui un software privazer che tiene conto appunto delle varie modifiche a fare terminate pulizie, lui crea una sorta di immagine di quello che è successo prima. È come quella vecchia opzione che aveva Windows che ripristinava in una situazione precedente. Qui per esempio in ripara, lui va a tentare una vera e propria riparazione più che un vero e proprio ripristino. Quindi guardate ragazzi, è fatto veramente, veramente bene. Contattateci, non vi interessa, passiamo qui a opzioni che vi voglio far vedere. Vi riporta altro che a la situazione iniziale, che era quello dal quale siamo partiti per fare i pochi click, quindi alla fine a voi non vi cambia nulla. Facendo a nulla ritorniamo qua. Le opzioni avanzate. Allora ragazzi, queste sono praticamente le classiche impostazioni di ogni software. Vi conviene andarvela a leggere, ma sono molto molto semplici, perché vedete nella barra applicazioni visualizzare privazer, sì, certo che sì, magari vi fa comodo perché sta nella barra delle applicazioni e ricerca automaticamente gli aggiornamenti di privazer, cioè potete fare come io ho fatto vedere solo il download manuale, perché la versione donatori permette l'automatico, ma ripeto, e fanno in click, santo Dio. Oppure dategli quei 5-10 euro che se li meritano, se li meritano davvero. Poi, prestazioni di privazer in background, ma voi vedrete, ve lo farò vedere, che quando andate a fare la scansione, potete selezionare, mentre la state facendo, di non stare in background, quindi, come posso dire, lavorare più lentamente, ma nello stesso momento, tanti gli stanno facendo fare quello, scegliete la modalità quella alta, cioè quella con priorità massima per privazer, e privazer nella ricerca di quello che deve appunto analizzare diventa anche più veloce. Ragazzi, guardate, vi assicuro, sono opzioni che gli altri software non hanno, vi assicuro che queste opzioni non le hanno, non li ho visto, certo non li abbiamo visti tutti, però i più usati, i più conosciuti, vi assicuro che queste opzioni non ce l'hanno. Le opzioni qua, vedete, di pulizia, pulizia intelligente, che è quella che poi vi ha anche chiesto, cioè ci pensa lui, ma è fatta veramente bene, nella RAM un passaggio, vedete qua, baseline standard, oppure più trim, all zero pass, queste sono tutti i sistemi di pulizia che lui andrà a fare, secondo sistemi o meno, quindi potete anche evitarli, di sovrascrittura, perché è una maggiore sicurezza la sovrascrittura per quanto riguarda le parasi, perché sovrascrivendo, voi sapete, perché quando andate a cancellare, questo ve lo dico per chi non lo sa, voi materialmente non cancellate il file ragazzi, ma cancellate solo la prima lettera del nome file, il file materialmente rimane là, fino a che randomaticamente, quindi a caso, non si va a riscrivere su quel settore, ma non lo potete decidere voi, in questo caso invece viene fatta una sovrascrittura realmente, e quindi il file viene proprio sovrascritto, quindi eliminato realmente, a secondo delle volte che viene sovrascritto, che potete scegliere in queste opzioni, diventa molto più difficile recuperarlo, ecco perché pragasi di alto livello. Poi, memoria, vede, dopo ogni pulizia, ragazzi sono opzioni semplicissime anche per internet, vedete, guardate, i cookie, qui vi fa, vede il cookie intelligente che abbiamo selezionato prima, potete fare inclusioni ed esclusioni di alcune cose che volete o non volete includere, ok? Molto, 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 molto semplice. Qua non facciamo altro che tornare indietro e torniamo al menu. A questo punto direi che vi faccio partire velocissimamente una scansione per farvi vedere che cosa succede. A questo punto andiamo a far partire la scansione, d'altronde questo programma perché l'abbiamo preso vogliamo pulire il nostro pc. Torniamo a schermo, siamo a questo punto sul menu principale, ma come adesso come faccio a far partire? Ma come ragazzi ve l'ho fatto vedere adesso, invece di farlo dalla scelta, cosa che poi volendo farete perché la prima volta semplicemente andate a fare la scansione, tanto il menu ve l'ho fatto vedere io, quindi sapete che cosa avrete per la volta dopo. Semplicemente andate su computer, perché immagino che quello che vi interessa per il momento sarà il computer, o selezionate l'unità esterna, l'SMS, quello che sia, tanto avete visto come si fa, selezionate computer, entrate nella finestra questa, guardate ragazzi, vedete quando vi ho detto che si può selezionare comunque? Qui c'è scritto disco locale C, lo vedete? Ma se io clicco sulla freccetta, vedete che mi dà anche il disco locale D, lo vedete ragazzi? Quindi io posso comunque fare anche da qua direttamente l'unità quella che mi serve. Attenzione, vedete che qui darà delle indicazioni tipo tracce presenti nell'MFT, dice, e che? Mamma mia ragazzi! Poi voi cercate di andare a vedere, perché vedete qui sulla destra, per saperne di più, io mi sposto e sparisce. Allora voi cercate di ricliccare, qui diventate matti, sembra un gioco, alla fine buttate il computer perché vi vengono le cosiddetti 5 minuti, no? Giusto? Perché non si ferma? Perché diventa veramente snervante, no? Perché è più veloce lui, no? Voi andate su, per esempio, presenti nell'MFT, cliccate col sinistro, vedete che è diventato leggermente più scuro? A questo punto mi posso spostare, recupero i riferimenti ai file precedenti nella tabella di allocazione del file. Per saperne di più, se io clicco, quando si cancella un documento, il suo nome, la sua dimensione, la sua data di modifica e il percorso non vengono realmente cancellati dalla tabella di allocazione del file. Privazer la scansiona per trovare tracce residui dei file. Guardate com'è fatto bene ragazzi, facciamo indietro, quindi per ogni voce voi avrete tutte le specifiche che vi servono. Comodo, eh ragazzi? Quindi non vi state, vi ripeto ragazzi, a preoccupare di tutti i nomi, di tutte le cose che fa, che effettivamente per chi non è pratico è un attimo, un po' d'ansia viene fuori, giusto? Ma state tranquilli ragazzi perché vi assicuro è fatto veramente bene e non comporta danni, ma diciamolo solo realmente miglioramenti. Inizia a pulire, questo nel modo in cui vuol dire che quando passate alla scansione, lui senza aspettare e automaticamente inizia a pulire, e spegne il pc dopo la pulizia. Di solito non lo fa nessuno, ma comunque potete cambiare in riavviare il pc dopo la pulizia, le opzioni quelle solite che ci sono in altri programmi. Guardate qua ragazzi, vedete? Crea un punto di ripristino, salva registro di sistema, non pulire il registro. Qua l'unica opzione che potete mettere per stare proprio tranquilli, crea un punto di ripristino. Salva registro di sistema, sì, in teoria anche questo, però non pulire il registro. Diciamo che se lo avete appena pulito, da poco tempo effettivamente il registro non l'andate a toccare, può essere anche eventualmente cliccato, non pulisci il registro. Però normalmente la pulizia che fate, se è occasionale, quindi ogni tanto, sì, su queste opzioni non selezionate nulla, queste che vi sto coprendo, ecco queste qua, non selezionate nulla perché è giusto che lui pulisca tutto. A questo punto ragazzi non dobbiamo fare altro che fare scansione. Quindi guardate, rimettiamo qua, clicco su scansione e automaticamente ragazzi parte tutta l'opzione di scansione, guardate addirittura come se stesse facendo proprio, avete visto quando andate a rimettere a posto i file per cercare di compattare il vostro disk, quelli di una volta, adesso per esempio sugli SSD non si usa praticamente più, anzi è sconsigliato farlo, ve lo dico per vostra conoscenza perché molti lo utilizzano anche sugli SSD, ma negli SSD è sbagliato andare a fare questa operazione perché non sperate che lavorano in un altro modo, adesso senza entrare nel tecnico, quindi è meglio non utilizzare questa situazione, questa opzione, questo ve lo dico per vostra conoscenza visto che comunque ci stiamo. Vedete che vi dà i risultati e passa poi alla cosa successiva. Vedete qua ragazzi, guardate intanto ve lo faccio vedere, vedete che c'è scritto bassa priorità, quello che vi stavo dicendo prima? Se io clicco su bassa priorità, mi dà priorità normale, riclicco alta priorità. Questo tutto in tempo reale, se io so che voglio sbrigarmi, quindi voglio fare in modo che il programma analizzi tutto quello che deve analizzare, provveda alla pulizia, faccia esattamente il suo lavoro nel minor tempo possibile e io non ho necessità di utilizzare il computer, vi consiglio assolutamente di fare questa selezione, cioè cliccare come ho fatto io fino a che non vi arriva alta priorità. Guardate ragazzi, qua mi dice, guardate che com'è, è possibile utilizzare il browser web durante la scansione, me lo dice, guardate preciso, ma è meglio chiuderlo durante la pulizia, d'altronde io ho messo la alta priorità, non voglio utilizzare il computer, mi interessa che lo pulisca come si deve e nel minor tempo possibile, qua chiudo, lui prosegue con la sua scansione e io so che volendo lo potrei utilizzare, ma è meglio, io non lo utilizzo infatti, e gli faccio procedere con la scansione. Pensate ragazzi che la prima volta, e io ci sto parlando soprapposta, anche se adesso magari sarà il caso per non farvi vedere tutta la scansione, ci mette leggermente di più, questa è la prima scansione, l'abbiamo notato, perché la fa veramente in maniera accurata, poi lui si crea una sorta di, come posso dire, come nelle opzioni che avete scelto mano a mano, che vi ho fatto vedere, si crea una sorta di, chiamiamola fotografia, di immagine, dove lui velocizza anche la sua ricerca, la scansione e di conseguenza il suo lavoro, ok? Quindi vedete qui mano a mano vi da praticamente la barra classica verde che avanza, io direi allora, senza farvi aspettare troppo, mi zittisco un attimo, faccio andare avanti il programma e aspetto che finisce la scansione, ok? E finalmente ha finito la scansione. Guardate ragazzi, lui ci ha messo tantissimo, devo dire, ma la macchina mia è piena, eh ragazzi, veramente piena, 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 quando ha fatto la scansione di sistema, forse ci metterà un po' parecchio, diciamo, anche nella vostra, ma ripeto, nelle scansioni successive ho visto che la cosa ha migliorato notevolmente, e ricordate che comunque in questa opzione, che prima appariva, adesso logicamente è sparita, mettete altre priorità, non utilizzate la macchina e comunque la cosa si velocizza, si nota la differenza, una volta che praticamente lui ha fatto tutta la scansione, voi non dovete fare altro che pulisci, e a quel punto la macchina semplicemente viene, vedete, guardate ragazzi, io vado a fare, riportiamo la dimensione giusta, faccio pulisci, lui mi chiede, pulizia normale? Guardate che cosa dice, così lo leggete bene, maggiore spazio libero e prestazioni, privacy massima, verranno puliti anche spazio libero, MFT, FAT, cancellazione sicura delle tracce, pulizia rapida, maggiore spazio libero e prestazioni, privacy in quel caso normale, quindi non esagera andare a sovrascrivere e via dicendo, però questa logicamente come potete vedere dai 15 minuti ci mette due minuti e 15 minuti, o pulizia turbo se proprio andate di corsa, maggiore spazio libero e prestazioni, la privacy è bassa, quindi non andrà a fare quasi credo nessuna sovrascrittura, non ho fatto questo controllo devo dire, ma probabilmente dipende dalla sovrascrittura che va a fare che vi ho spiegato, cancellazione normale delle tracce, a questo punto possiamo scegliere per esempio, normalmente credo che la pulizia rapida vada bene, ma se è la prima volta che lo fate, io vi consiglierei la pulizia normale, io in questo caso farò pulizia turbo per fare 10 secondi di pulizia, adesso lui praticamente parte, vedete, sta partendo la pulizia in modo che il video ve lo faccio corto, tanto io l'ho già fatta le pulizie, vedete ragazzi, finisce la barra, va verso la fine, la prima pulizia potrebbe durare 1-2 ore in funzione della quantità di tracce ricoperte, se avete selezionato la normale ragazzi ci mette una tombola, ma la macchina ve la fa diventare, ecco perché lo spray della pulizia, come si sol dire, linda e pinta, guardate che veramente vi accorgete della differenza, infatti vi dice le prossime pulizie come vi ho accennato saranno molto più rapide, fate chiudi, lui proseguirà le tracce che è sulla mia, avendo fatto la turbo, come vedete vanno piuttosto velocemente, io ci sto parlando sopra, ecco qua praticamente, qua mi dice 40 secondi, 4 secondi, 99%, 47 secondi, 40-50 secondi, ha rallentato leggermente, ha rallentato perché si vede che ha trovato la traccia che doveva sopra scrivere, volevo vedere se finiva, vediamo che sta a fare qua, mi è apparsa una finestra che mi dice, è in corso il ricalcolo, guardate, della pulizia disco, sta facendo l'eliminazione del sistema dei file non necessari, guardate, cioè vi avvisa di tutto, ma guardate com'è fatto bene, è fatto veramente veramente bene, aspettate ragazzi, io lo lascio andare avanti così, perché il video mi sa che già si è allungato parecchio, come vedete io ho selezionato comunque alta priorità, lo vedete qua ragazzi, guardate, io ho selezionato, vedete che c'è su alta priorità, io potrei fare modifiche e farlo rallentare, ma anche però, come vedete mi sta facendo, guardate, pulizia di Windows Update, pensate alla roba che c'è, sapete che faccio? Alla faccia dell'opzione che ho, attivo anche massima velocità, lo vedete qua ragazzi, cliccate, eccolo qua, ho messo anche massima velocità, leviamo lo zoom, quest'altra logicamente come vedete è ferma, perché sta aspettando che finisce questa, ok ragazzi? Quindi lo faccio vedere meglio, questa al momento è bloccata perché prima deve finire la pulizia di Windows Update, guardate ragazzi, vedete qua come vi indica, mano a mano, vedete? Spazio libero, vedete? Guardate, 377, vedete? 616,377 giga, guardate ragazzi, ve lo segnala pure, eh? Questo vedete che cambia in maniera, sembra strana, ma mano a mano sta aumentando lo spazio libero, solo che lui mano a mano lo ricalcola, quindi delle volte sembra che aumenta e poi decresce, perché lui rifà il ricalcolo in funzione di quello che sa che può cancellare. sta finendo la pulizia di Windows Update, vediamo, manca praticamente nulla e automaticamente vedrete che procederà la finestra da quest'altra parte, questa adesso si chiuderà, vediamo, ecco fatto, ecco fatto, guardate, vedete? 99%, adesso sta finendo, ve lo sistema in modo che lo vedete, mi sta segnando tutto quello che ha effettuato, guardate ragazzi, ne ho visti tanti di programmi, questo sembra così, a farvelo vedere, ripeto la prima volta, sicuramente è più lento, ma la qualità e l'accuratezza della pulizia sono non degni di merito, di più, cioè veramente ragazzi, vi assicuro che nella nostra storia ne abbiamo visti tanti i programmi, ma è fatto veramente con tutti i crismi, veramente, veramente fatto bene, cioè in tutte le sue parti questo software, veramente, veramente fatto bene, assolutamente, aspettiamo che finisce, ed ecco qua che è terminato, mi ha detto tutto, 18 eliminati dall'avvio, 13.237 MB di RAM puliti, mi dà tutte le possibilità, a questo punto non dobbiamo fare altro, leviamo lo zoom, che fare chiudi, e la nostra pulizia è terminata, ragazzi, io l'ho fatto, provate il PC, spengetelo, riaccendetelo, ricordatevo la prima volta, sembrerà leggermente più lento, lo spazio recuperato ve l'ho fatto vedere, ma riprovate a utilizzare il PC, e ditemi se non è vero che la macchina andrà meglio, bello, 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 bravo Nunzio, bravo Nunzio, ripassiamo qui, andiamo, olè, eccoci qua, ragazzi, spero che vi torni utile e lo utilizzate come credo, perché vedrete che utilizzato una volta difficilmente passerete ad altri, guardate, vi assicuro, meglio di tanti software a pagamento, assolutamente, e ripeto, non lo dico tanto per dirlo, mi raccomando, grazie, veramente grazie da parte mia e da parte di Fabio per tutte le iscrizioni e i commenti, non guardate, lo dico non iscritti, lo ripeto, solo i video, fatelo sta benedetta iscrizione, fatela, sto benedetto click, fate questo benedetto click, e che vi costa, dai ragazzi, forza che dobbiamo sedire un pochettino, perché stiamo facendo come loro, un mazzo tanto, un po' di soddisfazione ci spinge anche a fare di più, no? E fatela questa benedetta iscrizione, ragazzi, grazie a tutti, veramente grazie di cuore a tutti, grazie a te Nunzio, io ti renderò disponibile, parlo invece tua praticamente, quindi probabilmente faranno delle domande anche a te, ragazzi, anche al grande Nunzio, innanzitutto i nostri complimenti per la segnalazione e il nostro ringraziamento, se avete qualche domanda vi risponderò io, vi risponderò Fabio, in questo caso potrete, ci sarà anche Nunzio, santo Nunzio, grazie caro, un abbraccio, un saluto a tutti calorosissimo e ci vediamo ai prossimi video, buona serata a tutti.